Salve a tutti, tre spettatori del canale di Opinione di Luzio, ho questo breve video festivo solo perché ho scoperto che una nota showgirl, Flavia Vento, ha scritto un libro da quest'anno e siccome anche tramite un vlogger sono stato associato in maniera scherzosa a questa showgirl mi sono permesso di informarmi un pochettino su che tipo di libro questa persona possa aver scritto ci sono dei testi, è un libro di poesie, ci sono delle poesie online da leggere non pretendo di avere le capacità di fare una critica dei suoi testi quindi mi limiterò a leggere senza commento una delle sue poesie e spero che ci saranno invece molti commenti di qualcuno più bravo di me a fare una critica di questo autore vi ringrazio, rinnovo gli auguri di buon anno che sta per arrivare e al prossimo video chiedo alla regia un sottofondo musicale leggero magari di mettere un'immagine che sia consona a quello che sto per leggere la poesia si intitola Il mare ed è tratta dal primo libro di Flavia Vento che si intitola appunto Parole al vento edito mi pare verso aprile bene, ecco voi il mare distesa e immensa di mondi sotterranei sento quasi le voci di quel mondo fatto di abissi e segreti immagino sirene cantare squali attaccare cavallucci marini danzare conchiglie divine dormire e navi perse riemergere grazie